Zero to level. Zero, come i metri sul livello del mare dal mare stesso. Level, i 5.895 metri di altezza del Kibo, la vetta più alta del massiccio del Kilimanjaro. 186 chilometri di mare in kayak, 500 chilometri in bicicletta e poi a piedi, su fino in cima, per un dislivello totale di quasi 6 chilometri. E il ritorno? Si vola! Zero to level ha messo in collegamento il mare, quindi un braccio di oceano indiano, con la terra d'Africa per arrivare fino alla montagna più alta d'Africa che il Kilimanjaro. E la cosa che mi è piaciuta particolarmente è che è stata una vera e propria spedizione. L'idea è stata un po' quella di ripercorrere il percorso dell'acqua al contrario, quindi partire dal mare dove l'acqua del ghiacciaio del Kilimanjaro arriva dopo essersi trasformata appunto da ghiaccio in acqua e risalire idealmente al contrario il percorso. L'idea è stata un po' quella di ripercorrere il percorso. L'idea è stata un po' quella di ripercorrere il percorso.